E che cosa realizziamo oggi con queste bellissime melanzane appena raccolte? Allora, innanzitutto, come sempre ringrazio i miei amati genitori per ciò che mi danno. Tutte le loro culture per me sono oro colato, perché so quanto lavoro c'è dietro, non smetterò mai di dirlo. Sacrifici, ma tanta tanta passione nel coltivarli. Allora, oggi parliamo di melanzane, una ricetta salutare, una ricetta semplice e veloce da realizzare. Ho fatto pure rima! Come vedete dietro di me c'è una padella, all'interno c'è dell'acqua che porteremo a bollore. Le melanzane di oggi andranno bollite e poi andranno condite. Una ricetta? Una tra le più facili al mondo e poi è senza peso. Quindi andiamo sulla nostra cucina! E come vi ho detto, eccoci qua, guardate. La nostra acqua bolle, ecco, tolgo il coperchio. Poi naturalmente la quantità di acqua la decidete in base alle vostre melanzane. E andiamo a tuffarle all'interno, una dietro l'altra. Come potete vedere l'acqua continua a bollire perché per la melanzana è un'altra cosa, no? Per altri tipi di verdure invece la bollitura smette. Ora che faccio? Coperchio sono chiuso e vado a cuocere per 20-25 minuti. Fate la propria forchetta per verificarne la cottura e ci vediamo dopo. Ovviamente ogni tanto datela una girata in modo da avere una cottura uniforme. Ora tolgo il coperchio, prendo una forchetta e vado a infilzare. Guardate come infilza perfettamente. Un'altra e un'altra ancora. Ecco, a questo punto possiamo anche spegnere. Vado a scolare le nostre melanzane, le faccio intiepidire e poi andremo sul piano di lavoro a tagliarle. Perché dobbiamo condirle. E ho fatto pure rima come sempre. Sono la regina delle rime. A dopo. E guardate come si sono ragazzite dopo che le ho scolate. Ho aspettato che intiepidiscano un po'. Ora che faccio, con un coltello vado a tagliare il picciolo. Guardate, tolgo il picciolo e poi taglio a pezzetti al mio piacere. A fettine, a pezzetti, come preferite. Vi faccio vedere all'interno. No, giusto per farvi capire la cottura. Vi faccio vedere. Vedete? Vedete? E al soggio pure. Buonissima. Beh, le melanzane sono buone. Io vado a tagliare a striscette, a pezzettini, a fettine, come preferite. L'importante è che le fate perché sono davvero squisite in questo modo. Quindi, le taglio a mio piacere, poi le metto in un piatto da portata, una coppa, una ciotola, una bulla, come preferite. E ci vediamo dopo. Che spettacolo! Ora, tutti gli ingredienti che ora metterò sono facoltativi. Voi, se preferite, mettete altro. Io vi elenco tutto ciò che ci vuole in questa ricetta. Allora, capperi, naturalmente li ho sciacquati sotto acqua corrente. E questi li facciamo noi. Poi, peperoncini a pezzettini. E questi li facciamo noi. Poi, e pomodorini, perché me li ha dati mia mamma e mio papà? I peperoncini anche. I capperi me li danno sia i miei soci e sia i miei genitori. Quindi, pomodorini a pezzettini. Guardate, sta prendendo colore. Dopodiché, mettiamo origano. Sale quanto basta, ma poi voi assaggiate. Delle foglie di menta fresca. Ed ora, in questa ciotola, ho tritato due spicchi d'aglio. Vado a mettere olio d'oliva. In modo da mettere l'aglio ben sparso. Mescolo. E metto in questo modo. Naturalmente, poi, l'altro olio che occorre lo mettete dopo. Guardate che bellezza! Genuino! Un piatto davvero genuino. Ora, vado a mescolare il tutto. Ed è il caso di fare subito un buon assaggio! Allora, prendo un pezzetto di pane. E vado a mettere la melanzana, il pomodoro, tutto ciò che abbiamo messo in questo bel piatto. Il peperoncino, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Ripeto, fate a vostro gusto. Però, fatta in questo modo, è buona, semplice, genuina e anche leggera. Allora, io vi ringrazio con questo buon assaggio. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video perché io aspetto sempre i vostri commenti. Come sempre, grazie a tutti da Diziano Malimposta. Che buon giorno! È la fortuna, poi! Un spettacolo! Ciao!